eccoci qua cari amici guardate siamo davanti a un vecchio camion movimento terra 6 93 n1 siamo riusciti ad entrare in questa zona la corsa contro il tempo vecchio marvin ce l'ha fatta sono in compagnia di vincenzo in queste zone che grazie alla volontà e alla tenacia del marvin siamo riusciti a penetrare in questa zona dove qua il signor giacomo si è dimostrato una persona molto disponibile e io ho spiegato un po l'importanza di mettere da parte così dei ricordi noi non siamo qua per comprare o per ecco non siamo qua per valorizzare queste testimonianze 693 che monta il motore del 690 n1 in circa 11000 di cilindrata poi chiaramente ci sono gli amici esperti che ci diranno il tutto io ve lo faccio vedere così saluto un po tutti gli amici appassionati di fiat e tutti gli amici delle associazioni varie eccolo qua ce l'abbiamo fatta la corsa contro il tempo guardate un po ragazzi le ferie le ferie del vecchio marvin mai visto il mare in una settimana di buia ha portato a casa tante testimonianze storiche eccolo qua lui riparte stasera stasera purtroppo grazie comunque giacomo che ci hai già fatto vedere tanto e queste rarità allora claudio il signor giacomo mi stava spiegando che questo è un rimorchio a volta corretta della bartoletti che era agganciato a questa potrice mi spiega un po vincenzo allora mi dicevi allora il signor giacomo ci stava spiegando che è un rimorchio a volta corretta della bartoletti che è a 16 ruote che andava agganciato a questa a questa macchina di 650 anni di che anno è questo 1974 e giacomo cosa pensi che sarà il suo futuro pezzi di ricambio donatore ecco qua un donatore di pezzi ecco qua ragazzi io ve l'ho fatto vedere insomma vi ho descritto un po il tutto così ecco intanto l'abbiamo messo in memoria pazzesco guardate un po ragazzi spettacolo spettacolo ragazzi con questo vi saluto fiat 693 messo in saccoccia saluto un po tutti gli amici del canale saluto jonathan saluto matteo d'accanto anche se è un fiat saluto demis saluto massimo antonio tutti gli appassionati lo studio dentistico di belluno insomma ragazzi compagnia di vincenzo di taranto guarda qua manu da taranto le tue zone il vecchio marmine è arrivato ciao a tutti questo donatore di organi alla prossima un ringraziamento particolare al signor giacomo